E' troppo tardi per cambiare rotta adesso, compagni! Attento! Altola! Ti spariamo! Simpatico. Sono venuto a prendere i miei effetti. Per amminevole che sia, perché siete qui potendo essere altrove? Siamo quelli a guardia del forziere. C'è poco da fare. La disciplina militare ha subito un crollo a bordo di questa nave. Colpa degli uomini pesce. Oh, sono gli uomini pesce! Perché se diventi un uomo pesce, è automatico che non sei disciplinato come gli uomini non pesce? È concomitante, è questo che dico. Però è anche vero che dove non ci sono gli uomini pesce, non c'è neanche bisogno di fare la guardia del forziere. E se non ci fosse il forziere, non staremmo a fargli la guardia. Raperassi all'abbordaggio! Andiamo! Raperassi all'accazione! Guardate qui, uomini Un uccellino disperso Un povero passero Che non ha mai imparato a volare Con mio sommo di scacere Ma? Non è mai troppo tardi, sai? Il forziere! Rendimelo! Ti potrai liberare, compare! La mia libertà da tempo è ormai perduta La mia libertà! La mia libertà è ormai? La mia libertà è ommai perduta Il forziere! Il forziere! La mia libertà è?